angelo edoardo chi è il nuovo fidanzato siciliano di belen rodriguez la foto insieme e quanti anni ha la mamma di lui non è contenta e anche questa volta sembra essere tutto confermato belen ha un nuovo fidanzato e il suo nome è angelo edoardo da giorni sui social si mormora dell'esistenza di un nuovo compagno nella vita di rodriguez dopo la fine della sua relazione con elio lorenzoni il presunto nuovo uomo viene descritto come estremamente discreto e riservato tuttavia sembra che abbia già stretto un legame molto intimo con la famiglia della showgirl tanto da partire con lei e i suoi figli per un viaggio a disneyland nonostante la sua discrezione finora non sono state diffuse foto dei due insieme tuttavia una recente immagine resa nota da diva e donna ha svelato per la prima volta un istantanea di angelo e belen durante una gita fuori porta nella foto sono ripresi insieme a un uomo e dei bambini tra cui si riconosce luna marì la figlia di belen avuta dall'ex antonino spinal vese chi è il nuovo fidanzato di belen rodriguez tutto quello che sappiamo su angelo edoardo secondo quanto riportato dal settimanale il misterioso compagno di belen avrebbe 34 anni ed è originario della sicilia la loro frequentazione inoltre sarebbe iniziata nel mese di marzo la pubblicazione della foto che mostra belen e angelo insieme durante una gita fuori porta con i bambini potrebbe aver spinto la showgirl a rompere il silenzio e a confermare pubblicamente la loro relazione su instagram la stessa belen rodriguez ha condiviso una notizia riguardante la sua presunta nuova fiamma tuttavia il nome del 34 n era stato erroneamente scritto come angelo eduardo belen ha corretto l'errore confermando la relazione comunque si chiama eduardo ha risposto la showgirl accompagnando il commento con emoji del fuoco e una faccina sorridente belen angelo eduardo la mamma di lui non è contenta le informazioni sul bel siciliano sono ancora scarse ma sembra che un potenziale ostacolo nella love story tra belen eduardo sia emerso grazie alle rivelazioni dell'esperta di gossip di janira marzano secondo quanto riferito da un'informatrice anonima che è amica di famiglia la madre di eduardo non sarebbe favorevole a questa relazione conosco alcune informazioni su angelo e la sua famiglia sono amici di famiglia la mamma non è contenta di questa frequentazione ha scritto l'informatrice ad e janira marzano grazie a tutti grazie a tutti